Ciao a tutti, sono Roberto Martini, sono al quindicesimo giorno di quarantena, non corro da dieci giorni, se non mi alleno mi viene mal di testa e non riesco a dormire. La situazione, ammetto, non è delle migliori, ma non mi lamento. Fortunatamente ho una persona vicino a me, in questo momento Tania, la mia compagna, che mi supporta ogni giorno, grazie mille tesoro, che sta in camera da letto in questo momento e sta ascoltando tutto quello che dico. E voi come state? Come ve la state passando in questi giorni difficili, in questa situazione? Scrivetemi sotto e fatemi sapere. Veniamo all'argomento del giorno, perché questo video, ragazzi, perdonatemi per la mia assenza sui social nelle ultime due settimane, dieci giorni. Molti di voi mi hanno scritto in privato, mi hanno chiesto se stessi bene, come stai, tutto bene, puoi farci un video, per favore fai dei video per intrattenerci in queste giornate, e quindi grazie mille a tutti quelli che mi hanno scritto e che si sono preoccupati per me. Sto bene, avevo soltanto bisogno di un po' di spazio, avevo bisogno di un po' di aria, perché il momento non è stato dei migliori. Quindi solitamente, quando sono in crisi, anche nelle gare, più mi chiudo al riccio. Quindi, fino a quando va tutto bene, riesco a reagire alle difficoltà in un modo, in alcuni momenti ho bisogno di chiudermi per ricentrarmi, ritrovare il focus, ritrovare me stesso. E... è successo questo. In poche role, negli ultimi dieci giorni non ho più aperto Facebook, pochissimo Instagram, più che altro stavo su YouTube guardando video di Biari Ghidone, molto simpatico, parla di vita in camper. Canale YouTube molto carino, mandateli dare un'occhiata. E sono stato completamente fuori dal mondo della corsa. Proprio zero, non ne volevo più sentire parlare. E non ho neanche corso, ragazzi, zero. Perché tutto questo? Perché ero nauseato. Non ce la facevo più, sui social ho visto atteggiamenti molto brutti e sinceramente non avevo nulla da dire, ero rimasto davvero senza parole. Perché tutto questo? Voglio fare un passo indietro con voi e rivivere un secondo le ultime tre settimane. Quindi partiamo dall'inizio, tre settimane fa, che cosa è successo? Arriva il coronavirus, non ci rendiamo conto della gravità della situazione, è limitato soltanto al nord, il resto dell'Italia continua a vivere una situazione abbastanza tranquilla, come se nulla fosse, e non ci rendiamo conto di quello che sta per succedere. Tant'è che io, con tutte le buone intenzioni, ho creato anche l'evento Io continuo a correre per dare un segnale di positività, per dire ragazzi non chiudiamoci, continuiamo a fare ciò che amiamo. Volevo dare un segnale buono, che poi alla fine, nei giorni successivi, è stato molto frainteso e tuttora adesso ricevo commenti negativi, però andiamo per gradi. E addirittura l'evento viene condiviso e ci scrivono un articolo anche da Runner's World. Siamo arrivati in pochissimi giorni, in 4.000 iscritti all'evento su Strava, ed è stato un qualcosa di wow, non mi sarei mai aspettato. Poi, però, settimana successiva, l'Italia diventa tutta quanta zona rossa, e da lì cambia tutto. Inizia la quarantena e iniziano i problemi sui social. Il mondo della corsa si spacca completamente in due, tra chi dice di restare a casa e tra chi dice che la legge ci permette comunque di continuare a correre. Nel decreto c'è scritto che si può continuare a fare attività fisica all'aperto. E su questo argomento, purtroppo, ho visto davvero tanta cattiveria. Quindi è lì che le cose sono iniziate a scricchiolare per me. Non capivo il perché di tutta questa aggressività, di tutta questa cattiveria. Che è successo? Perché? Tant'è che anche io personalmente vengo criticato molto duramente per l'evento che ho fatto, e ho dovuto scrivere a caratteri cubitali che l'evento era della settimana precedente, quando questa situazione non è così grave. Sicuramente ho sottovalutato la cosa, io personalmente, però va bene. Quindi, due settimane fa c'è questa lotta tra le due fazioni, e poi, culmine di tutto quanto, settimana scorsa la situazione con il coronavirus peggiora e il runner diventa il nemico numero uno per tutta l'Italia. Cioè... wow. E purtroppo persone che conosco direttamente sono state insultate mentre correvano. Ecco, di nuovo l'ignoranza. Questo non mi piace. Quindi, ancora settimana scorsa, legalmente si può correre, ma siamo visti come la peste. In tutto questo, penso che il problema sia stato creato dal fatto che ci dicono che possiamo continuare a fare attività fisica, attività motoria all'aperto, da decreto, ma dall'altra parte ci dicono di restare a casa, di non uscire, di uscire soltanto per andare al lavoro e per fare la spesa. Quindi c'è molta confusione. Posso uscire per fare attività, ma non posso uscire. Che fare? Logicamente, le persone dicono io posso uscire, oppure dicono io non posso uscire. E tuttora ad oggi, quindi ad oggi, che giorno è? Ho perso completamente. 24 marzo ad oggi, il decreto dice che posso fare attività fisica nei pressi della mia abitazione. Quindi io posso andare a correre, posso fare attività sportiva sotto casa. Ma quanto distante? Quindi tuttora adesso per legge posso uscire. Io premetto che non sto uscendo. Però posso correre sotto casa. Ma magari posso allontanarmi 2 km o 500 metri? Quanto è nei pressi della mia abitazione? Per me nei pressi, che sono ultramaratoneta, potrebbe essere 5 km. Per me, se esco 5 km vicino casa, sto qui sotto, non è che mi allontano. Vabbè, in tutto questo c'è poca chiarezza. E ha creato questa lotta contro di noi, tra di noi. Secondo me sarebbe stato meglio, da subito. Visto che tanto la situazione era grave. Sapevamo che sarebbe finita così. Era meglio, fin da subito, dire Ragazzi, siamo incasinati, la situazione è critica, dovete restare chiusi dentro casa, non uscite. Mi raccomando, nessuno può uscire, basta, stop. Almeno così era chiaro, non c'erano delle zone grigie libera di interpretazione. Perché alla fine è questo quello che è successo. Ognuno interpretava il decreto come voleva, come meglio credeva, e si è creata confusione. In più, i telegiornali probabilmente hanno aumentato e hanno fomentato tutta quanta questa situazione. Però questo è un altro argomento. Però, c'è un però ragazzi. Ad oggi, finalmente vedo risplendere, tra virgolette, nuovamente lo spirito del runner che è in noi. E vedo rinascere qualcosa. Quindi vedo la resilienza, vedo la forza di noi che corriamo. Vedo allenamenti fatti in 10 metri quadrati di giardino. Vedo gente che fa le scale. Vedo allenamenti indoor e gente che non si arrende. Gente che continua a fare ciò che ama, stando comunque chiusa dentro casa. Ed è bellissimo. Questa è la reazione più bella. Siete stupendi ragazzi per tutto quello che state facendo. Noi siamo quelli che corriamo maratone. Noi siamo quelli che siamo abituati ad affrontare momenti difficili. E siamo quelli che possiamo reagire al meglio in questi momenti. Ne sono convinto. Perché la corsa ci ha formato come persone e ci ha fatto diventare delle persone più forti. Per affrontare al meglio i momenti difficili. Restate a casa e allenatevi in sicurezza. Ma non arrendiamoci. Possono vietarci di uscire all'esterno. Ma noi siamo liberi dentro ragazzi. E quando tutto questo sarà finito torneremo a correre più di prima. Ne sono convinto. Quindi perché ragazzi questo video. Conclusione. Da domani per starvi vicino e anche per me. Visto che lo faccio tutti i giorni. Farò una lezione in diretta ogni mattina. Qui sul mio canale YouTube. Alle 10. Faremo una lezione di potenziamento. Esercizi a casa. Ci inventeremo qualcosa. Ogni giorno faremo un qualcosina insieme. Per tenerci in forma. Per non perdere l'allenamento. Mi inventerò qualcosa. Saranno 20 minuti di lezione. 30 minuti 40 minuti. Ci faremo una chiacchierata. Questo è il mio modo per starvi vicino. In più. Una seconda cosa che voglio fare. Posterò ogni giorno una foto su Facebook. Delle mie gare passate. O comunque di momenti felici. In cui stavo facendo ciò che amo. Ogni giorno posterò una foto. Ricordando i momenti più belli. Questo sicuramente potrà aiutarmi. Aiutarmi e aiutarci se facciamo tutti quanti la stessa cosa. A vivere al meglio questo momento. Cercando di ricordare i momenti belli che abbiamo vissuto. Quindi portando pensieri positivi dentro di noi. Usiamo l'immaginazione per uscire dalle mura della nostra casa. E sogniamo di tornare a correre ancora. Bene ragazzi. Vi voglio bene. Il video è finito. Come sempre. Se vi è piaciuto. Se lo avete trovato interessante. Mettete un bel mi piace per supportare il canale. Se ancora non l'avete fatto. Vi invito come ogni volta a seguirmi su Strava, Facebook, Instagram. Ovunque. Ma soprattutto ragazzi. Allenatevi dentro casa però. Ciao ragazzi.